10 località della Campania sono state insignite della Bandiera Verde 2023. Di queste, 9 sono in provincia di Salerno, 8 nel Cilento. Nei giorni scorsi, l'International Workshop of Green Flags ha annunciato l'elenco delle località italiane e straniere che hanno ottenuto la Bandiera Verde 2023. Si tratta di un riconoscimento che indica le spiagge adatte ai bambini, selezionate dai pediatri italiani. Una ricetta ormai consolidata che ha permesso di selezionare un ampio ventaglio di metri a misura di famiglie. Il viaggio per i bambini, ricorda Italo Fernetani, pediatra presidente dell'associazione, è utile anche per l'apprendimento e lo sviluppo. Ecco perché è importante sapere dove i bambini possono trovare luoghi sicuri e ambienti dedicati. Le bandiere verdi sono diventate ormai un classico, indicano le spiagge ideali per i bambini con acqua limpida e bassa vicino alla riva, servizi di assistenza e sicurezza, ma anche locali per mamma e papà. Quest'anno le bandiere verdi sono 154 in Italia, promosse da oltre 2.900 pediatri, 146 spiagge sono in Italia, 5 nell'Unione Europea, 3 in Africa. Dieci località hanno conseguito ininterrottamente la bandiera verde per 16 anni, tra cui Marina di Camerota. Nel Cilento ad essere premiate anche Agropoli, Ascea, Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica, Santa Maria di Castellabate e Sapri. In Campania la bandiera verde sventola anche Adischia e Positano.